Eccomi, allora sono tornata a casa dopo un giorno di relax E dato che il tempo si è aperto, ragginola ragazzi, devi menjaga bento tubunia, Yohanawan Eccomi, allora sono tornata a casa dopo un giorno di relax E dato che il tempo si è aperto, oggi è bellissimo qui, al mare Ecco qua, sport, quindi timidamente riprendo la vecchia sana buona routine di fare sport il sabato e la domenica Anche perché dopo un bel astestamento del programma, con i viaggi eccetera Uno deve capire un po' come vanno le cose e poi può riprendere chissà qual è il mio livello Io non me lo ricordo più, comunque oggi farò paddle Voi che fate? Voi che fate? Grazie a tutti.